La carne è piena di ormoni? Ogni tanto qualcuno ne parla. Questa è una fake news in Europa e soprattutto in Italia. Vi spiego meglio. Il problema degli ormoni serve agli allevatori, soprattutto dell'America, della Sud America. Loro danno questa carne piena di ormoni che poi diventa molto morbida, molto gustosa. Noi come Italia e noi come Europa abbiamo obbligato tutti coloro che vogliono vendere questa carne d'oltrealpe e di oltreoceano in Italia e in Europa a non mettere ormoni. Noi li controlliamo. L'Europa e l'Italia sono sicure di non avere carne che abbia ormoni perché la ormonalizzazione della carne porta quasi sicuramente all'insorgenza di malattie anche molto gravi, compresi i tumori. Quindi non si può pensare che una Italia, una Francia che hanno tipo la carne scerulea, abbiamo la fassona piemontese, la chianina toscana, carne meravigliose, carne dove gli animali vengono veramente allevati in modo molto onesto, molto giusto, possono essere addizionati con ormoni solo per essere più grassi e più gustosi. La nostra carne è molto buona e soprattutto molto salutata e soprattutto non ha ormoni.